9 euro. Attenzione amiche, stiamo parlando di un filo di giada che è strepitoso. Andiamola a vedere indossato. Vieni Maurino. Guardate che spettacolo. Guardate che luminosità dà al décolleté di ognuna di noi. Una giada incredibile, trasparente, elegante e raffinata a solamente 99 euro. Ma non è finita, voglio farvi un ulteriore regalo. Attenzione. 49 euro. Prezzo veramente unico. Solo la Fashion Group, solo la Gioielli Dan riesce in questi miracoli. 0287367582. Veloci a confermare. Veloci a confermare. È veramente strepitoso. Giada naturale, fermagliata, parur, argentata. Nelle tre tipologie di argento, dorato, argentato e rosato, con bracciali, orecchini e collier. È un prezzo incredibile. 49 euro. Solamente amiche, il filo di giada ti mettiamo questa splendida parurina qui e andiamo avanti con una meraviglia della natura. Attenzione amiche, stiamo parlando di perle australiane. Anzi, ve le sistemo qui. Perle australiane meravigliose, bianche, sferiche, elegantissime. Guardate che meraviglia. Andiamole a vedere insieme. 199 euro con bull in oro 18 carati. Guardate che meraviglia. Una collana molto lunga. Non una perla esagerata. Attenzione amiche, per voi, per questo sabato di diretta ve la lascio a 149. Da confermare veramente in velocità. 0287367582. È strepitosa questa opportunità per voi. Amiche, quando si parla di perle non si può assolutamente. Perlino attivo nella gioielleria. Uno degli oggetti tra i più eleganti come gioielli da confermare al volo. Daco e Maurino Grazie. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Guardate che filo. Australia. 13 millimetri. Bull in oro 18 carati. A 99 euro. Un prezzo che ha dell'impossibile. 0287367582. Guardate che spettacolo. Guardate che eleganza. Guardate che stile. Tutto per voi. È bellissima. È veramente strepitosa. La perla ha un'eleganza. La potete indossare in qualsiasi circostanza, in qualsiasi occasione, ma sarete sempre particolari ed eleganti allo stesso tempo. 99 euro. 13 millimetri. Australiane. Bull in oro 18 carati. È una promozione che solamente noi riusciamo ad offrirvi. Quindi veloci perché non abbiamo più tantissime opportunità. Noi compriamo le perle veramente a quintali per realizzare tutta la nostra gioielleria. Solo per questo si riescono a fare questi prezzi. Questi sono fili di perle, amiche, che meno. Sono meravigliose. Adesso attenzione. Vorrei mostrarvi l'arge 900. Parliamo di tennis in argento ad alto titolo 925 per 5 carati di zirconi naturali a 49 euro sotto costo scontatissimi tennis che costavano 99 euro cada uno. Oggi non perdete, amiche, queste opportunità. Andiamo avanti con un'altra richiesta dal centralino. Sapete già di cosa sto parlando perché la conoscete molto bene. Sto parlando, se la riesco a snodare, ma penso proprio di sì, con calma. Eccola qua. Stiamo parlando dell'8777. Stiamo parlando di una Chanel in diamanti naturali. 0,90 punti di diamanti. È una Chanel in calda sogno. Guardate che spettacolo. 0,2,8,7,3,6,7,5,8,2, confermate un sogno. Una Chanel in diamanti per quasi un carato a questo prezzo. Ditemelo voi. Ditemi se è possibile. È veramente un prezzo unico, è veramente un gioiello da confermare al volo. Sentivo che c'era qualche richiesta. Luca? Un po' di una collana in perle giapponesi con questi particolari in corallo, una Chanel molto lunga, con questi distanziali in zirconi e nei Mauro. Guardate che meraviglia. Perle giappone, corallo mediterraneo naturale, distanziali in zirconi naturali. Un oggetto di grande qualità, oltretutto molto molto fine. Lo si può portare anche tranquillamente doppio e otterrete una collana di questo tipo. 0,2. Ritiro e vado avanti e vorrei mostrare un'altra bellissima Chanel. Un'altra bellissima Chanel in perle, ma questa volta con bull smaltate. Guardate che spettacolo. Molto molto lunga. Questa è lunghissima. È lunghissima. Non si riesce a vedere dove arriva, ma è veramente veramente grande. Veramente veramente lunga. Attenzione per voi, per tutte le amiche, per tutti gli amici che ci seguono. 49 euro anche per questa. 49 euro anche per questa. Chanel. È una pulsantata grazie al ventilatore. Ma come mai lo teniamo spento? Che senso ha? In, se trovo la pinzetta, eccola qui. Una crocettina in argento ad alto titolo 925 con zirconi naturali montati. Non si fa, non si fa. Molto molto bene. Attenzione amiche, attenzione, l'otto al 691 per le richieste che ci hanno fatto dal centralino. Stiamo parlando di 15 carati di spettacolare colore. Oh, questi, questi, questi. Li cercavano tanto. Montati su argento ad alto titolo 925 con 7 carati e 25 di splendidi zirconi. Le faccio un bonifico, Riccardo, se convince Emanuela ad indossare. Io aspetto il bonifico, caro amico Liban, gliel'ho già comunicato. È bellissima. Quindi rimani lì perché più secondi passano più la cifra del bonifico. Grazie, cara. Ringrazio tutti. Dai, bella. Questa è in regalo, è in regalo con i bracciali, in regalo con i bracciali. Allora, senti, ci salutiamo su questo anello così poi rimango io qui solo soletto e tu sei libera di andare anche un po' a riposarti al centralino. Tutte le amiche, eccoci qua. Vai, salutone da parte sua, io rimango qua. Rimani qui con voi per riposarti. Io rimango qua e poi arriva Giovanna, dai. Un bacio a tutte, grazie. Grazie, cara, complimenti. Ciao, ciao a tutti, buon proseguimento di sabato. Non posso fare altro? Devo limitarmi.